Passiamo quindi alle novità più recenti, cioè il discorso che è stato tenuto dal Presidente russo, doveva essere mandato in onda, trasmesso la sera del 20, verso le 9 di sera nostre, e poi invece è stato trasmesso, registrato la mattina. La mattina perché? Perché è un discorso che venendo trasmesso la mattina è andato a cogliere tutta la giornata russa da Vladivostok fino a San Pietroburgo, perché era un messaggio rivolto ai russi. Credo abbia rovinato anche una parte di orario che ci riserva anche a noi in Occidente. Fatto sta che la nostra situazione in questo momento qual è? Noi forniamo armi a un paese che è in guerra con un altro paese, che al momento non si ritiene in guerra con questo, ma sta svolgendo un'azione limitata che viene chiamata Operazione Militare Speciale. Cosa cambia con il discorso di Putin? Il discorso di Putin spiega che la Russia ricorrerà alla mobilitazione dell'1% delle loro forze disponibili, che sono circa 25 milioni di riservisti, quindi circa 300 mila uomini sono l'1,2% grossomodo. Questi riservisti sono persone già formate negli ultimi 5 anni a militare, con varie specializzazioni, e andranno a comporre e rinforzare gruppi di combattimento che opereranno nel settore. Quindi non si tratta di soli 300 mila uomini che verranno impiegati, ma di 300 mila uomini che verranno usati per rafforzare e aumentare un dispositivo formato da professionisti, gruppi tattici di professionisti e di riservisti che formeranno un'armata di fatto più vasta come numero. Ipotizziamo 150-200 mila soldati effettivi di ruolo, più i 300 mila riservisti, quindi siamo già intorno ai 500 mila soldati, con mezzi e tutto, contro i 150 mila che sono stati impiegati in questi mesi. Quindi sono circa 40 battaglioni quelli impiegati al momento, il rafforzamento è considerevole. E' tre volte il dispositivo attuale. Sì, tre volte il dispositivo attuale, anche di più, e il dispositivo attuale tiene a bada circa 600 mila soldati ucraini. 400 mila schierati qua e altri schierati altrove. Da ieri è segnalato un movimento di forze ucraine verso sud. Addirittura alcune voci dicevano che vengono spostati reparti che difendevano la capitale per cercare di rafforzare al massimo il dispositivo presente nel sud dell'Ucraina e cercare di sfondare i settori sotto controllo russo. In particolar modo ipotizzo che possano tentare da domani in avanti un'offensiva su Zaporizia per tagliare in due almeno il territorio che collega la Russia continentale alla penisola russa della Crimea attraverso i territori sotto controllo russo adesso, Zaporizia e Kherson. Quindi assisteremo a un'ulteriore escalation, e cioè da domani 23 si aprono i seggi in tutte le regioni sotto controllo russo e nelle due repubbliche di Donetsk e Lugansk. Lugansk è praticamente interamente libera e quindi su tutto il suo territorio si terrà questo referendum. Il referendum chiederà esplicitamente se intendono i cittadini aderire alla federazione russa. Che è bene o male il primo referendum tipo che si era tenuto in Crimea, che le due repubbliche non avevano seguito inizialmente. Sì, esattamente. Dopodiché il territorio di Donetsk invece è in parte occupato dalle forze d'occupazione ucraine da otto anni tra l'altro e quindi si terrà solo sul territorio libero il referendum. Non c'è la possibilità di tenerlo nella restante parte della Repubblica di Donetsk. Sì, la colpa non è russa anche questa volta, è degli ucraini che impediscono lo regolare svolgimento del referendum. Poi si terrà sulla parte della regione di Zaporizia sotto controllo russo, quindi Melitopol e Berdiansk, se non sbaglio. Sì, Berdiansk, che sono due grossi centri, importanti anche a livello sia portuale che industriale. E qui si terrà il referendum. Poi sulla regione di Kherson, che è interamente sotto controllo russo in questo caso. Il referendum si terranno in quattro giorni dal 23, 24, 25 e 26. Mi sembra poi vengano chiuse le urne, o martedì anche, non mi ricordo più, forse anche martedì. E avremo l'esito poi del referendum, martedì. È stata già annunciata una sessione d'emergenza della Duma russa per il giorno 28, presumo la mattina, con i dati certi dell'esito del referendum e voteranno per l'eventuale riconoscimento dell'esito del referendum. Da quel momento, quindi, verrà poi fatto firmare al presidente russo l'esito della votazione e i territori diverranno parte integrante del territorio russo, della federazione russa. In molti, Stefano, si chiedono quali saranno le conseguenze di questa mossa. Le conseguenze innanzitutto sono che su territorio russo possono essere impiegati anche i soldati di leva russi, che sono circa altri 100.000 soldati. Per la difesa del territorio si applica il protocollo integrale della difesa russa. Ed è molto importante questo, attenzione. Possono essere impiegati tutti i mezzi a disposizione dell'esercito per la difesa del territorio russo. Potrebbe spuntare un S-400 lì in mezzo? Sì, anche, però il punto è un altro, che possono dare il via a una serie di misure che colpiscano anche i civili in Ucraina, cosa che finora non hanno fatto, se non a livello dimostrativo, e quindi partire con effettivamente le operazioni di demolizione delle infrastrutture del paese. Perché di fatto si troverebbero con un esercito nemico in territorio russo. Quindi una guerra vera e propria dichiarata. Una guerra vera e propria che giustifica anche in questo caso la mobilitazione. E non solo, Stefano. Io mi immagino anche che in caso di guerra dichiarata, il paese in guerra, qualsiasi esso sia, che sia l'Ucraina o la Russia, non potrà più ricevere armamenti. Allora, dal punto di vista formale, l'Ucraina può ricevere armamenti dai suoi alleati che continuano a rifornirla. Il problema è che la Russia potrebbe decidere che siccome questi alleati contribuiscono a colpire il territorio russo, considerarli cobelligeranti e quindi colpirli. Anche quelli con tutto quello che è disponibile. Perché in questo caso è in gioco il... Diventa una guerra esistenziale contro la Russia. Esatto, l'integrità del territorio russo. Questo cambia le cose in tavola perché si può attingere poi a una seconda mobilitazione, a una terza. L'Ucraina ne ha già fatte 5 o 6 mobilitazioni da questo punto di vista. E quindi arrivare a mobilitare anche milioni di soldati da parte russa. La cosa più importante ancora, e che va studiata bene, è che il protocollo militare russo prevede, in caso sia in discussione, in gioco, la sopravvivenza del paese o la sua integrità, anche l'uso dell'arma atomica. E questo è previsto nei protocolli, cioè capiamoci, non è un'opzione del Presidente, è scritto nero su bianco. Chi attacca la Russia e il territorio russo deve sapere che i russi hanno previsto il protocollo di difesa del loro territorio, anche con le armi atomiche, non è una sparata del Presidente o una minaccia, non la è. E questo perché è previsto nei protocolli e a quelli si devono attenere, perché sono il frutto di studio e sono il frutto delle prove nelle esercitazioni. Ricordate che avevamo spiegato che nelle esercitazioni Vostok del 2017 venne poi sparato una prima risposta a un attacco terrestre da parte di una potenza, presumibilmente la Nato, vi fu una risposta in un primo tempo convenzionale da parte russa, ma terminava con un lancio sotto la piattaforma artica di un singolo missile che andava a colpire un obiettivo militare nemico, in territorio nemico, per dire che erano pronti ad andare oltre. Sì, eppure tutti questi segnali vengono interpretati sia dai nostri media che dai nostri politici come la sbrufonata di Putin. Ma non si tratta, allora, questo proviamo a dirlo ancora, è dal 2020 che lo diciamo, non si tratta di un bluff, la Russia non bluffa, è una potenza nucleare, potenza nucleare significa che ha le ordini atomici e si è minacciata, li usa. Per questo nei decenni passati non si è mai verificato un conflitto con una potenza atomica. se le potenze della Nato continuano e continueranno a fornire, perché sono pazzi, a fornire le armi come le forniscono all'Ucraina, l'uso delle armi atomiche è previsto e avverrà. Ma di questo bisogna farsene una ragione, o si comprende che gli avvisi li hanno già dati tutti, tutti per fermarsi, i nostri politicanti non si fermano, continuano a fornire armi sempre peggio, sempre più potenti, sempre più minacciose, sempre più offensive. Questo ci porterà sull'orlo dell'abisso. Una escalation veramente inutile e indesiderata da noi, eppure queste elite ci stanno guidando. Noi non facciamo terrorismo, non stiamo facendo terrorismo, stiamo solamente notando che 50 anni fa non c'è stata una prosecuzione del conflitto, perché non c'è stato un altro conflitto tra Russia e Stati Uniti, tra Unione Sovietica e Stati Uniti, perché si erano verificati due fatti. L'esplosione delle armi a Hiroshima e l'esplosione di prova delle armi atomiche sovietiche nei poligoni nel Kazakistan dove le avevano fatte esplodere. Ma all'epoca c'erano persone intelligenti che erano in grado di capire che cosa c'era in gioco. di capire che erano diventate due potenze atomiche. E da due potenze atomiche, se c'è un conflitto, c'è l'uso delle armi atomiche. Adesso invece si pretende di fare la guerra a una potenza atomica, pensando che questa non usi le armi atomiche. Ma perché mai vai a pensare a una cosa simile? Cosa le ha lì per gioco? Stiamo scherzando? È follia nostra, dei nostri governanti, andare a rompere le scatole e a provocare un conflitto con una potenza atomica e cercare in tutti i modi di metterla in difficoltà, fornendo qualunque tipo di arma che hai a disposizione. Cosa si pensa di arrivare? Si arriva a un conflitto, inevitabilmente. Solo un imbecille può pensare che uno abbia le armi atomiche di figura di bellezza. Certo che le useranno se saranno messi alle strette, lo useranno sì. In molti, per esempio, sui blog, sui nostri canali, sono i primi a sostenere l'uso di tali armi, ma io vorrei usarle solo quando necessario, fondamentalmente come ultimo esperiente. Ma lo faranno se vedranno che le forniture occidentali aumenteranno ancora. Ora, a quel punto, a quel punto diranno, eh ragazzi, qui continuate a usare le armi, o colpisco voi o colpisco loro. Cerchiamo di dare un messaggio colpendo loro. Magari la capite. Perché oltre a questo, oltre a questo, i missi iniziano a volare. Eh ma ci stiamo veramente avviando verso questa fase molto particolare, dove una guerra che poteva sembrare fredda, oggi in realtà sta diventando caldissima. Ma perché i nostri continuano a dirci che è follia, che è una sparata, che è un bluff? Qui non c'è niente di bluff. Niente. Niente. Lo dicevamo, ti ricordi ancora quando nel 2021 c'erano tutti i movimenti di colonne di carri, di blindati, di camion, ospedali da campo montati, cucine, c'era di tutto. E dicevamo, qui si prepara una guerra. Certo, sottovalutarla sarebbe stata una stupidata pazzesca. Follia. È chiaro che non stanno facendo una dimostrazione così. E non lo fanno solo per i nostri occhi e basta. No, li hanno spostati lì perché in caso di bisogno la useranno. E appunto. E l'Ucraina ha continuato a spostare armi a est, tutto l'esercito a est, e questi hanno detto, ma quanta roba hanno questi? No? Hanno costruito una valanga di sistemi d'arma. Questi si preparano a una guerra. E quindi hanno detto, e quindi dobbiamo fare una guerra. Perché? Perché non possiamo avere una potenza che ci vuole fare una guerra alle porte di casa. Stiamo scherzando. Questa marcia che stiamo inserendo in Russia fondamentalmente non permette una retromarcia. Non è che da qua si torna indietro. No, non si torna indietro. Sono tutti dei passi che una volta intrapresi, bene, è fatta. O sospendono i nostri governanti, capiscono che la situazione è andata oltre. Perché guardate che l'hanno detto in tutti i modi. Siete andati oltre l'accettabile. O lo capiscono e sospendono tutti gli aiuti all'Ucraina. Non dico di non mandare i medicinali, non dico di mandare le derrate alimentari. Bambole gonfiabili. Ma le armi, basta. Altrimenti finiamo in conflitto. Stop. È finita. È finita. Non si può andare oltre. Non si può arrivare a un conflitto nucleare per l'Ucraina e per gli Stati Uniti. E per i giochi in casa nostra, oltretutto. Ma non sarebbe solo in casa nostra. Questo è il fatto. Eppure tutto quello che diciamo e possiamo dire, possiamo fare, è abbastanza vano di fronte a dei politici come la von der Leyen o Draghi che spingono sull'acceleratore proprio per ottenere questa guerra. Ma perché non si rendono conto che arrivano a un conflitto nucleare? Loro sono convinti nella follia che nessuno voglia usare di usare le armi nucleari. Ma se ti trovi in guerra con una potenza nucleare, puoi star certo che la potenza nucleare verrà usata. La von der Leyen è stata capace di dire che i russi sono costretti a mettere i chip delle lavastoviglie dentro i missili. Siamo a questi stadi qua. Ma era una bufala che era uscita tra l'altro da un'agenzia di stampa ucraina. Che a lei li legge senza problemi. E li ripete anche ci crede. Ma infatti, queste problematiche sono dei nodi che vengono al pettine togliendomi ogni speranza che questa gente sia capace di sistemare le cose. Quello che temo io è che abbiano dei consiglieri, magari a libro paga di Soros, che continuano a dirgli no perché le sanzioni stanno funzionando, loro stanno per crollare. In realtà è tutto un bluff. Sembrano dei McNamara un po'. Sì, sono in gravissima difficoltà, quindi dobbiamo continuare, insistere. Noi siamo talmente in difficoltà che la Fonderlion ha fatto togliere le sanzioni sui fertilizzanti e un altro prodotto che non mi ricordo più, che arriva dalla Russia. Perché siamo senza e abbiamo difficoltà a trovarli? E magari i russi li vendono anche, oltretutto. Ho visto allo SCO firmare accordi per centinaia di miliardi di euro di controvalore e accordi per scambiare tutte le loro forniture di merci, beni e via dicendo. Nelle valute nazionali, sia tra Cina e Russia, nuovi gasdotti, estensioni di quelli esistenti, ampliamenti, gasdotti verso il Pakistan, gasdotti iraniani verso l'India. Noi siamo andati a pensare, mi diceva Masala l'altro giorno, a un gasdotto che partendo dalla Nigeria faccia non so quante migliaia di chilometri sotto il mare collegando tutti i paesi africani della costa arrivando poi in Marocco dove c'è una linea che va in Spagna e può portare in Unione Europea la bellezza di 5 miliardi di metri cubi di gas all'anno. Sì, che non è molto. Il Nord Stream 2 che è lì fermo, pronto e chiuso ne porta 50 miliardi, 10 volte tanto ed è già fatto, pronto, però non lo aprono. È fantastico, che lì di nuovo per il Nord Stream 2 se non erro basta una firma, giusto? Ma anche senza firma, basta che aprano un rubinetto, c'è già tutto collegato e stop. Non serve niente in realtà, serve solo la volontà di aprirlo, di sfidare gli Stati Uniti. Le altre condotte sono invece tutte bloccate perché le turbine sono una in mano alla Germania e l'altra danneggiata in mano alla Russia. La follia peggiore che ho sentito dire dalla von der Leyen è che forniremo quello che servirà per arrivare alla vittoria, a vincere la guerra contro la Russia. Sconfiggere la Russia, come? Come che hanno le armi atomiche? Se sconfiggi la Russia, la Russia vede messa in gioco la propria possibilità di esistere. È chiaro che l'Occidente vuole la sconfitta della Russia, non ne frega niente dell'Ucraina. Di fronte a queste ipotesi loro te la nuclearizzano l'Ucraina e dicono venite adesso a vedere un po' se volete vincere ancora la guerra. E questo è il fatto. Sono folli a Bruxelles, folli e più folli ancora a Washington. A Washington hanno un presidente che non riusciva a scendere dal palco l'altro giorno durante un discorso. Ah, a proposito di presidenti, noi dovremmo avere una diapositiva del discorso di Draghi che parla all'assemblea plenaria dell'ONU. L'hanno fatto parlare a un orario che non c'era manco l'uscere ancora presente. Credo 15 persone mal contate in aula. Assurdo. Poi le hanno dato un premio negli Stati Uniti come statista. Statista chi? Non è riuscito ad affrontare l'emergenza del Covid, abbiamo avuto più di 100.000 morti, per dire un fallimento totale su tutti i fronti. Il governo, un fallimento totale. Non ha messo in piedi una politica che servisse, non ha gestito nulla. Una politica economica del paese, un programma di sviluppo, zero. E quello è uno statista. Ma manco un programmatore di normale contabilità aziendale, non lo so. Ma hai detto giustamente chi? Un gestore. Chi gliel'ha dato il premio? Biden. Gli Stati Uniti. Kissinger per la precisione. Ah, ancora meglio. Quindi sappiamo bene o male anche da dove viene il nostro buon draghi. Statista loro forse. Loro. Il problema è che poi con questi titoli qui vai in giro per il mondo a fare conferenze strapagate. E in Italia ci credono che sia un vero statista poi magari. Sì, vai a fare conferenze strapagate e quindi vieni ripagato del tuo lavoro. Non possiamo dire niente ovviamente, perché sennò non è che sia monetizzato, ma sapete come va a finire. Sai, tu capisci a me. Ecco. Bene, Stefano, non abbiamo concluso per niente. Questa è una puntata che si estende almeno per un'altra mezz'ora. Abbiamo, dico così, a spanne, abbiamo altri argomenti e tra questi chiaramente di ieri sera non ci aspettavamo, almeno parlo per quanto mi riguarda a me, segretario alla redazione, che vedessimo sulle immagini, sui canali russi, la liberazione degli Azov e dei PMC stranieri, i PMC, che sono questi Private Military Contractors, che erano... Hanno liberato anche quelli che erano condannati a morte. Esattamente. Ili Azov, come hai detto giustamente, sono stati mandati in Turchia con la condizione di non combattere di nuovo, mentre i PMC stranieri sono stati accolti dall'Arabia Saudita con la mediazione di MBS. Diciamo che hanno voluto dare una mediazione di questo. Io non mi stupisco, cioè non mi capacito mai del grande pragmatismo russo di fronte a queste situazioni, perché la Turchia e MBS sicuramente hanno accresciuto la loro posizione come mediatori e quindi sono grati alla Russia per questo. Credo che il valore di questo tipo di azione sia superiore al punire queste persone per ciò che hanno fatto e per i reati che hanno commesso. Il fine ultimo è vincere questo conflitto per la Russia, non è occuparsi di giustiziare tre delinquenti o trovare giustizia per i crimini di altri. loro pensano che il risultato finale è quello che conta. Di fatto festeggiamo la liberazione dei prigionieri russi. Esatto, sono a casa, per loro è finita quest'incubo. Sappiamo che i crimini commessi contro i prigionieri di guerra ucraini da parte degli ucraini non sono cosa non nota. Sappiamo addirittura e abbiamo visto che hanno addirittura colpito l'edificio dove c'erano i loro stessi prigionieri, uccidendone molti. E pertanto sappiamo che non hanno limite ai crimini che possono commettere questi esaltati. L'importante è che siano stati liberati i prigionieri russi. Tra l'altro è stato liberato un colonnello, i due ufficiali più alti in grado prigionieri degli ucraini, cioè un colonnello e un maggiore. Delle voci relative al comandante in capo delle operazioni a Kharkov, a quanto pare di lui non c'è traccia, evidentemente era l'ennesima balla che avevano messo in giro, per la gioia di quei tonni che ci credono. Comunque sia è importante questo, cioè il fatto che siano a casa è il dato importante. Per quanto riguarda questi cinque Azov liberati, i più alti in grado, fondamentalmente ci sono alcune voci che girano sui canali russi che dicono che Zelensky non li voleva vicino a sé questi, perché probabilmente hanno già una visione diversa di come sono andate le cose, o magari potrebbero avere un seguito un po' troppo elevato, potrebbero comunque risultare una minaccia a Kiev, e quindi preferisce tenerli distanti. Ci sono tante eventualità, ecco queste sono voci che ho sentito anche dai canali russi, quindi ci tenevo a condividerle. Tra la liberazione di questi Azoviti, come si fanno chiamare, ci sono anche le liberazioni dei PMC stranieri, che appunto dovevano passare attraverso un tribunale, eppure sono riusciti a scamparsela. Sì, erano stati condannati in via definitiva, mi sembra dal tribunale del DPR, che però avrà consentito al loro rilascio, perché entrano a breve sotto l'autorità federale della Russia, e pertanto hanno compiuto questo gesto. Trovo singolare che siano emischiate delegazioni dell'Arabia Saudita, nel mediare queste liberazioni. No, no, perché ci sono stati gli incontri allo SCO, la Shanghai Cooperation tra le delegazioni russe e saudita, ricordo che e soprattutto il faccia a faccia tra Erdogan e Putin, credo che abbiano mediato proprio su questi aspetti. lo Shanghai Cooperation è un organismo economico, ma non solo, adesso sta prendendo connotazione di difesa, che è in forte espansione, vede tra gli osservatori più attenti la presenza di Bielorussia, Arabia Saudita, Emirati Arabi, Qatar, tra l'altro alcuni altri paesi asiatici, non è escluso che vi entri anche altri paesi, il Vietnam e altri paesi, la Cambogia, altri paesi asiatici, ancora l'Indonesia probabilmente, quindi prossimamente alla prossima riunione. È possibile Stefano ipotizzare che ci sia stato qualche cos'altro, al di là dello scambio di prigionieri? Ci sono senza dubbio interscambi di commerciali, nel senso che la Turchia pagherà il 25% di tutte le commesse di energia e petrolio in rubli e il resto in altra valuta, che possono essere anche le lire turche come l'euro, il dollaro o lo yuan a seconda, ma il 25% sicuramente in rubli. L'Arabia abbandona il dollaro perché scambierà con l'India e la Cina in real se non sbaglio e in rupie e yuan, ed è una cosa epocale. È un terremoto economico. Nei loro interscambi abbandonino il dollaro e l'euro eventualmente. Questo è una botta impressionante. È la morte del petrodollaro? È la morte del petrodollaro questo. Sì, perché gli scambi con Cina e India dall'Arabia Saudita sono enormi. Enormi. Se la stessa cosa facessero anche Qatar e Emirati Arabi, perché attraverso gli Emirati Arabi passano uno scambio di merci notevole, la cosa assumerebbe dimensioni epocali. L'Egitto anche sta pensando di entrare, è osservatore nello SCO, quindi una potenza anche militare in Africa, nel Nord Africa. Lo status del Venezuela? Lo status del Venezuela al momento sta pensando di entrare nel BRICS, se ben mi ricordo, e poi potrebbe entrare anche nello SCO. L'unica cosa, tra l'altro adesso il 2 di ottobre ci saranno le elezioni in Brasile, e vediamo un attimo se esce già al primo turno Lula o se si dovrà andare al ballottaggio. Immagino che ci siano delle condizioni particolari per poter accedere a questo gruppo elitario di nazioni. Dunque, l'SCO bisogna aderire allo spirito di Shanghai. Lo spirito di Shanghai è caratterizzato da cooperazione, sviluppo dei paesi che ne fanno parte, parità tra i paesi, consultazione tra di loro, l'aiuto reciproco, eventualmente la difesa, la stabilità politica, e quindi è stata specificata la lotta a tutte le forme di rivoluzioni colorate importate dall'estero. Ed è molto importante perché questo paese vedrà uniti tutti questi stati nel combattere le ingerenze statunitense o della Nato nel cercare di modificare l'ordine democratico degli stessi, come hanno tentato di fare più volte nelle varie primavere arabe e via dicendo. O stanno tentando di fare anche adesso in Iran, avendo montato una questione di ordine pubblico. Sì, notizie delle ultime ore, che cosa sta succedendo in Iran? Dunque, una ragazza che aveva assistito a una diatriba tra la polizia iraniana e un'altra donna è stata accolta poi da malore. È stata portata poi in ospedale, dove però ha avuto un attacco cardiaco di fatto, un attacco di cuore, probabilmente per l'emozione e l'agitazione, o perché lei stava litigando, comunque aveva qualche problema di cuore, non è la prima che succede. Non è la prima volta che capita una cosa del genere. Ora c'è un problema, perché dietro tutto questo si stanno montando delle voci, dei rumors che parlano di rivoluzione delle donne in Iran. Sembra molto sorossiana come voce quando arriva alle orecchie. È stata, tra l'altro, poi rianimata, l'hanno soccorsa, ha recuperato le funzioni cardiache, ma aveva subito danni al cervello dovuti alla mancanza di ossigenazione. E questo ne ha causato poi la morte cerebrale e poi la perdita delle funzioni degli organi interni. Non è che non l'hanno soccorso altro, è stata soccorsa come, però ha avuto questo malore. Sembra un po' come se... Adesso non è la stessa cosa. Non ci sono altri elementi. Adesso non è la stessa cosa. Da questo si è montato tutto il... Io dipingo un esempio. È come se la Pussy Riot andasse, manifestasse da qualche parte, poi stesse male e tutti noi ci facessimo un mega sogno dietro, dicendo che questa stava facendo, chissà che cosa. Ma a parte che credo siano in Occidente tutte le Pussy Riot al momento e non trovano neanche da lavorare perché nessuno le va a ascoltare i concerti. Ho letto un articolo di RT, ma non era tanto dei concerti, sono andati a finire nelle ONG, credo che stiano lavorando addirittura con Stoltenberg. Non vorrei dirti nient'altro. Addirittura. Nient'altro, voglio dire. Siamo a questi livelli, Stefano. Invece di andare a studiare musica, perché non era neanche capace a suonare, voglio dire. La finiamo qua, invece che andare fino alla mezza, la finiamo qua, scherzo. Abbiamo ancora un'immagine che mi avevi mandato a proposito delle enormi code fuori dalle grandi città russe, la fuga, no? Uno degli argomenti principali della propaganda del nostro regime è che c'è una fuga di cittadini russi che ha causato una coda di 36 chilometri al confine con la Finlandia. Allora, io ho semplicemente digitato su Google le mappe un percorso stradale da Alessandria, quindi la mia città, fino ad arrivare a Helsinki. Come vediamo, è un viaggio comodissimo di un giorno e 14 ore. Passando in auto, che cosa mi dà? Mi dà due diversi percorsi da seguire, con due diverse strade, che però passano da San Pietroburgo e vanno verso il confine finlandese. Come si può vedere nelle immagini, intorno a San Pietroburgo mi segnalava, di oggi pomeriggio, nel primo pomeriggio, mi segnalava dei rallentamenti dovuti all'ora di punta dell'uscita dal lavoro nella pausa pranzo o subito dopo la fine del lavoro, comunque solamente nella tangenziale di San Pietroburgo. Verso il confine con la Finlandia tutto verde. Nessun rallentamento. Zero. Zero. Non solo. Un utente della mia pagina Facebook mi ha mandato anche la pagina delle webcam che ci sono dal lato russo del confine. Non c'erano neanche macchine, va bene? Ed erano in diretta. Neanche macchine in quel momento. L'ho vista in un momento, guardato, ce n'erano due o tre. Poi dopo mezz'ora guardato, combinazione, non ce n'era neanche una. E cioè, cosa stanno raccontando? Non ho purtroppo modo di verificare, di comprare un biglietto d'aereo, prenotare un biglietto d'aereo da Mosca verso Ankara da qua perché non te lo fanno prendere, presumo per il discorso delle sanzioni, che tu non puoi comprare una cosa in Russia partendo da Occidente. Però se ci fosse qualcuno in Russia, se gentilmente volesse fare la prova in bianco, chiaramente non gli dico di comprare, di prenotare un volo aereo, tenete presente però una cosa. Un aspetto che non hanno neanche menzionato eventualmente i nostri pennivendoli, di regime, è che in Russia, a Mosca o a San Pietropurgo, quanti stranieri lavorano? E quando un paese rischia di andare in guerra, gli stranieri restano lì o tornano a casa magari? Soprattutto quando poi si capisce anche che c'è una ricerca anche degli stranieri che magari non hanno lavoro, che magari però sono interessati ad avere un certificato di nazionalizzazione e lo puoi ottenere partecipando all'operazione speciale. Sì, quello sì, però nel caso di gente che è lì per lavoro inteso da aziende di tutto il mondo, magari dall'Arabia o perché si occupa di commerciare e via dicendo, ma quante decine di migliaia di persone ci sono a Mosca? Ma è un continuo. Io stesso ho tanti amici su Facebook che vivono regolarmente a Mosca o a San Pietropurgo. Questi qua magari prendono e tornano a casa, per dire, al di là di quello. Non è che necessariamente, oltretutto, se uno è in età di riservista, 45 anni per le donne, 50 per gli uomini, dopodiché si è congedati dalla riserva, se sei inserito negli elenchi delle riserve il paese, non lo puoi lasciare. Quindi quando ti presenti all'aeroporto ti dicono torni a casa. Certo. Ma che cosa raccontano? Cosa raccontano? Cosa? Ma sai che i nostri stampano sulla carta igienica le loro uscite, i nostri media sono fantastici, sono meravigliosi. È allucinante, guarda, è allucinante. Stefano, io ti ringrazio, credo che abbiamo detto tutto, ma sono sicuro che avremmo dimenticato qualcosa, come sempre. Per carità, siamo persone. Siamo umani anche noi, qualche errore ce lo concederete. Va bene. Ci sentiamo la settimana prossima così commentiamo sia le elezioni in Italia che il referendum. Oh santo cielo, ecco, perché questa era niente, la puntata 130 è niente e la puntata 131. Si vota, si vota anche, si vota, ricordatevelo. Tu no. Ecco appunto. Ciao Stefano e alla prossima, arrivederci a tutti, grazie per l'attenzione. Alla prossima. Arrivederci. Ciao. Ciao.